vado adesso a impanare la carne poiché sono molto sottili devono cuocere circa un minuto per lato andiamo adesso a salare e se vi piace aggiungete un altro po' di pepe e andiamo ad aggiungere passato un minuto l'aceto balsamico da far sfumare vado a spegnere la ricetta è semplicissima, fatela e fatemi sapere cosa ne pensate, come vi è venuta se avete bisogno di un suggerimento scrivetemi qui sotto nei commenti lasciate un like, iscrivetevi al canale e al prossimo video, ciao!